Buongiorno a tutti, siamo gli alunni delle classi dite della scuola primaria di Puglia Pedaglia e vogliamo appuntarvi oggi alcune tra tutte le esperienze che abbiamo conosciuto a scuola e che hanno dato l'analizzazione di questi prodotti primari. Le classi terze sono fatte alla ricerca delle tracce e dei resti del passato. Hanno visitato le muretas dell'Arce, imponenti costruzioni in quarte canzelle di tutti i colori per difendere la partenina delle regioni. Oggi, di queste opere, rimangono ultraopposti da molti resti perché i regioni, dato che la conquista della Valle, le abbattevano. I nostri storici di miniatura hanno poi avvenuto la scritta e la presa. Ci sono fai limitati al nostro studio e alla ricerca della scuola, sono i miei piedi, le scuola per la felicità e quelle nuove altre viracolette hanno realizzato un'ambiente. Grazie a tutti.